Ben trovati cari amici di Media24. Due episodi hanno contrassegnato la cronaca di questi giorni. L'assalto ai palazzi dei tre poteri a Brasilia, la capitale del grande paese sudamericano, e la rissa scatenata da centinaia di ultra-napoletani e romanisti a un casello dell'autostrada in Toscana. Su questi temi la nostra consueta riflessione. Due fatti si sono incrociati in questi giorni. L'assalto ai palazzi dei tre poteri in Brasile da parte dei sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro e gli incidenti sull'autostrada in Valdichiana in Toscana da parte di ultra-napoletani e romanisti. Non possiamo certo mettere sullo stesso piano i due episodi e tuttavia ci sono molti elementi in comune che ci devono fare riflettere. Partiamo dall'attacco dei sostenitori dell'ex presidente brasiliano ai palazzi governativi, esattamente otto giorni dopo la proclamazione del nuovo presidente Lula da Silva. Molte correlazioni con l'analogo episodio accaduto il 6 gennaio del 2021 a Capitol Hill, a Washington, da parte dei sostenitori di Donald Trump. Stesse scene di saccheggi, devastazioni e oltraggi alle istituzioni democratiche da parte di orde incontrollate di manifestanti che non accettano le regole della democrazia e agiscono violentemente per sovvertirle. Al momento sembra che la rivolta sia stata sedata così come è accaduto in America, ma l'episodio è emblematico di un clima che stanno vivendo le democrazie in tutto il mondo, sotto l'attacco di poteri e sistemi autocratici che vorrebbero distruggerle. Quanto accaduto in America nella più grande e potente democrazia del mondo rischia di espandersi laddove esiste una democrazia. Non riconoscere un verdetto elettorale, manipolare la volontà popolare uscita dalle urne, insinuando brogli e imbrogli per scatenare la rivolta giocando su quello che i commentatori politici definiscono populismo insurrezionale. Spingere cioè i propri sostenitori, nascondendosi dietro un paravento, a ribellarsi contro gli ordini costituiti e sovvertirli. Per fortuna le democrazie hanno molti anticorpi per neutralizzare questi pericoli e tuttavia non è detto che accadimenti di questo genere non riescano prima o poi a raggiungere gli obiettivi prefissati dai loro ispiratori. Mentre nelle autocrazie la libertà del dissenso è severamente vietata, nelle democrazie c'è libero spazio anche per coloro che vorrebbero travolgerle. È un rischio che per garantire libertà e diritti a tutti si deve correre perché non esistono sottospecie di sistemi democratici. La libertà è tale se è garantita e tutelata dalla legge. Ma a proposito di libertà e di democrazia, il grave episodio di guerrigli avvenuto sull'autostrada in Toscana è anch'esso un campanello d'allarme che non va sottovalutato. Si dà il caso che centinaia di tifosi, napoletani e romanisti, si siano dati appuntamento ad un casello autostradale per scatenare una rissa che poteva finire in tragedia. Questi episodi accadono perché le maglie di una democrazia sono più larghe e insinuarsi tra di esse è più facile. Contravenire ad una regola, non rispettare le norme di legge, appartiene al libero arbitrio di ciascuno, ovviamente punibile a seconda della gravità dei casi. Ma anche questi accadimenti ci raccontano di una malattia delle nostre democrazie che va guarita, esattamente come abbiamo fatto nei periodi più difficili della pandemia. Abbiamo ancora gli anticorpi e i vaccini per impedire che queste infizioni possano irrimediabilmente propagarsi. È una domanda alla quale è molto difficile rispondere. Sta alla responsabilità di ciascuno di noi come soggetti autonomi e come parti di una comunità contribuire a tenere alta la guardia, semplicemente difendendo con la nostra partecipazione civile la libertà di tutti e di ciascuno. C'è una scritta su un muro di Pordenone che recita così «La libertà non è gratuita» ed è vero, la libertà va coltivata e conquistata ogni giorno con l'impegno di tutti. Proseguono i lavori nel quartiere di Torre di Pordenone interessato dalla posa di fognature nere e bianche. A partire dalla seconda settimana di gennaio, la società Idrogea S.P.A. sarà impegnata nella posa in opera delle nuove condotte foniarie di Acquedotto e per acque meteoriche lungo via Borgo Casoni, tra via Nazario Sauro e via Piave. Durante questa fase dei lavori sarà istituita la circolazione a senso unico verso via Piave e lungo via Stradelle, quest'ultima in particolare interessata dalla posa delle condotte di acque meteoriche. Sono state indette per lunedì 30 e martedì 31 gennaio le elezioni per il rinnovo delle consulte frazionali organismi di partecipazione dei cittadini previsti dalla Stratuto Comunale di Tolmezzo con funzioni consultive e propositive nell'ambito delle decisioni che riguardano il territorio delle frazioni stesse. Tutti i cittadini che desiderano proporre la propria candidatura possono farlo nel periodo dall'11 al 21 gennaio di quest'anno sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'ufficio elettorale del Comune Tolmezzino. Dopo gli interventi già eseguiti nel capoluogo e al via il secondo stralcio della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nelle frazioni di Fiume Veneto, la riqualificazione dei passaggi pedonali prevede l'installazione di nuovi punti luce della pubblica illuminazione nei due sensi di marcia per garantire una più efficace illuminazione notturna, il rifacimento di nuova segnaletica verticale di pre-segnalazione nei casi di maggiore pericolosità e di quella orizzontale quali strisce di arresto e zebrature. Dopo l'ottimo risultato del primo intervento eseguito ormai un anno fa, dichiara il Vice Sindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Corai, nel mese di gennaio inizieranno i lavori per mettere in sicurezza altri 11 attraversamenti pedonali per un investimento complessivo di 100 mila euro. Il 2022 è stato un anno da record per il campeggio comunale Santa Margherita, gestito dall'azienda speciale Don Moschetta di Caorle. Al 31 dicembre dello scorso anno il campeggio ha registrato un saldo di presenze pari a 90.414 unità con un aumento rispetto al 2021 del 18,40%. Il dato ottenuto lo scorso anno è stato superiore anche al periodo pre-Covid. Nel 2019 infatti le presenze in totale furono 73.653. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta, Avvocato Simone Gusso, commenta così il risultato. Siamo soddisfatti. Il merito di questo sostanziale incremento va soprattutto all'idea nata dopo l'insediamento dell'attuale Consiglio d'amministrazione di promuovere le aperture del campeggio anche nei weekend fuori stagione. Intensificazione del controllo del territorio ferroviario da parte della Polizia di Stato nelle stazioni e sui treni in occasione delle festività del Natale Capodanno ed Epifania. 5.621 persone controllate, 15 indagati, 302 veicoli ispezionati e 4 sanzioni amministrative elevate. Nel complesso sono state 321 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 45 quelle a bordo di 92 treni. 11 servizi antiborseggio in abiti civili potenziati per prevenire e contrastare reati come truffe e furti solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore a flusso di passeggeri. Non saremo mai sufficientemente grati alle forze dell'ordine per il prezioso lavoro svolto a tutela della nostra sicurezza. Sapori antichi, festa del Pestif Pestit, la rapa secondo le tradizioni cassane, ertane, dolomitiche e non solo. In programma per sabato 14 l'incomune di Vaionte è organizzato dalla locale Proloco con il patrocinio dell'amministrazione comunale e dell'ente parco naturali delle dolomiti friulane. La degustazione del piatto tradizionale viene riproposta alle 17 con prenotazione obbligatoria, con la speranza di concretizzare finalmente una festa aperta in primavera. Questo nostro progetto, sottolinea il Presidente della Proloco Vaionte, Antonio Stassi, vuole ricordare, condividere, scoprire, conoscere, raccogliere e tramandare la conoscenza e le modalità di preparazione di questo piatto montanaro è spesso dimenticato ma dal grande valore tradizionale e tipico della Val Vajont e della Val Cellina che va da Casso a Barcis passando per paesi ricchi di storie e forti cultori delle usanze locali immersi in un territorio incontaminato e suggestivo nel cuore delle domiti friulane come Erto, Cimolais e Claut. Ed è stata presentata dal comandante della Polizia Locale di Pordenone, Maurizio Zorzetto, la riorganizzazione del comando di Pordenone e Cordenone, la riorganizzazione del nostro comando, spiega Zorzetto, era già iniziata alcuni mesi fa e si basa su un progetto tratto chiaramente sulle esigenze e sulle necessità di questo territorio. Riteniamo indispensabile continuare la fruttuosa collaborazione già esistente con la Polizia di Stato ed è fondamentale che i cittadini ci sentano al loro fianco nella quotidianità. E il Pordenone Calcio disputerà due gare consecutive allo stadio Teghild di Lignano-Sabbiadoro sabato 14 gennaio alle 14.30 con le Virtus Verona e sabato 21 gennaio sempre alle 14.30 con il San Giuliano. Dalle ore 10 di oggi saranno in vendita i biglietti per entrambe le gare nelle rivendite del Bar Libertà e Musicatelli di Pordenone, Sostero Blue Office di Lignano-Sabbiadoro, Angolo della Musica di Udine e in tutte quelle di Ticket One. Bene, con questa ultima notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale, ora vi lascio alle previsioni del tempo e poi alla rubrica Il diritto a portati di mano a cura dell'avvocato Silvia Paola Peretto, quindi alle notizie di Italpress ed infine alle 22 il consueto appuntamento con il film. Grazie ancora della vostra attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.